Alla conferenza dei sindaci si parla di AFT, case di comunità, sportelli, ASP nei comuni, farmacie territoriali, punti su cui si poggia l'attenzione dei sindaci del Vibonese, che hanno soprattutto il problema di far quadrare i conti per tenere aperte le 39 postazioni di guardia medica, avendo a disposizione solo 47 medici titolari e 81 trimestrali. Intanto il generale Battistini, che rimarrà alla guida dell'azienda sanitaria di Vibonese per tutto il 2024, annuncia misure per la sicurezza delle postazioni di guardia medica, che saranno tutte dotate di videosorveglianza, mentre a Soriano, dal prossimo 8 aprile, entrerà in funzione una AFT pubblica che opererà dalle 8 alle 20, coinvolgendo 8 medici del comprensorio. A loro supporto ci sarà personale infermieristico e amministrativo della struttura spedaliera, con un conseguente calo di pressione, secondo l'ospicio del commissario ASP, sulla stessa guardia medica. L'attivazione di una AFT a Soriano, resa possibile dall'accordo raggiunto con 8 medici del territorio, che prenderà le mosse appena gli accordi interni alla AFT verranno concretizzati, una AFT pubblica, a cui l'azienda darà un supporto in termini di personale e offrirà i locali. Un altro progetto avviato dall'azienda sanitaria è quello dello sportello ASP nelle sedi comunali. Al momento hanno aderito 10 enti e si sta provvedendo alla formazione del personale. Al termine della conferenza dei sindaci, la soddisfazione del presidente della conferenza, il sindaco di Vibo Valencia, Maria Limardo. L'attenzione è stata puntata sulla realizzazione concreta della medicina sul territorio per il tramite delle AFT che saranno realizzate e che contribuiranno a rendere una migliore erogazione del bene salute sul territorio, ad aumentare la percezione della sicurezza sanitaria sul territorio stesso e a garantire quei cittadini che ancora sono lontani rispetto a strutture che sul territorio non hanno proprio nelle immediate vicinanze.